E' uscito il mio nuovo libro I Sereni della Magia in tutte le librerie d'Italia e anche su Amazon Vi lascio il link sotto in descrizione e mi raccomando condividete le vostre foto su Instagram Mi chiamo Lorenzist Lo scopo di oggi è quello di ingrassare Cioè mangiare così tanti penini del McDonald's, tante peppe porchette Da diventare più grosso di un barile Con Lorenzo sono giochi bellissimi Quindi per ingrassare sempre di più metti mi piace ora per un panino alla porchetta E scrivi sotto nei commenti Peppa Andiamo ad ingrassare Ok allora si chiama Tallman Run ovvero Corsa dell'Uomo Alto Invece no oggi faremo la Corsa dell'Uomo Rasso No che poi mi bannano per Body Shaming Non si può fare Come vedete io sono Gino Gino il pasticcino a quanto pare che ne mangia tanti i pasticcini Ma è così magrolino che deve andare contro un gigante Quindi questo è il nostro Gino Dobbiamo farlo diventare ultra wide Super mega ciaddone E per farlo diventare super mega ciaddone Dobbiamo prendere il più 15 ed allargarci sempre di più Ah ma c'è anche lo shop Vediamo cosa c'è nello shop Wow Gino che corre Ai posso mettere pure la corona in testa Va bene ho capito è il momento di fare la nostra prima corsa con Gino Gino spacca ginocchio Via ok siamo Gino noi dobbiamo diventare più grande ma proprio enorme e non solo enorme Alto Quindi salta No 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 prenderlo perfetto così Mamma mia Guardatelo Che chad Aiuto alto che chad Guardatemi mamma mia come sono Salta Ma sono scomparso No gli ostacoli ai fitness e mi hanno fatto perdere tutti i chili che avevo di troppo Fino a che non sono scomparuto No vabbè non si può fare sta cosa Allora 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 Dobbiamo risolvere questa situazione ora Puttiamo il back home Pronto sì vorrei ordinare 50 pizze McDonald con le patatine e la ketchup sopra Non esiste? Createla Perfetto Gino Allora dobbiamo risolvere questa brutta situazione Ricordiamo qual è il nostro scopo Diventare più larghi Quindi proviamo a fare così Anziché prendere l'altezza Mettiamo solo in larghezza Intanto facciamo tipo livello di enormità Perfetto Ho messo spessore Guardate qui Guardate che Il ciclo ti ha posto del tipo di piaccione Vai Gino Sei tutti noi Insegna le nonne ad andare in bicicletta Pronti partenza via Ok Diventiamo solo più grandi No Devo per forza almeno mettere l'altezza Eh vabbè Eh vabbè Ma che cos'è? Niente Mettiamo pure in altezza No aiuto No ho perso un po' di pancia Attenzione Vai 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 Sempre tanto grande Tanto grosso Però Abbassa la cresta Che poi Ti me lo so Non è ancora abbastanza Non siamo ancora arrivati a quelle Ci addone là in fondo E in tutto questo la mia gola sta morendo Oh finalmente possiamo iniziare a sbloccare nuovi livelli Allora possiamo spendere 60 gemme per diventare ancora più chad E io lo faccio perché la chaddezza deve essere soprannaturale Quindi più chad Più chad Ancora più chad Adesso posso sollevare 200 chili Va bene GG Ho cambiato Ora GG Dimostrami Che puoi arrivare ad essere Un vero gigante Vai Ok Allarghiamoci Dobbiamo diventare Super mega Iper Larghi Attenzione Dobbiamo schivare qua gli ostacoli Perché potrebbero farci perdere peso E io non voglio perdere peso 25 Oh vabbè Mamma mia Se ti tiro un pugno qua Ti mando in Australia Vai 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 Scusa ma che devi fare Scusa ma che devi fare Mamma mia che chaddone Eh visto così tanto grande così tanto grosso e poi cadi giù come una mela marcia Ah in tutto questo mi sono fatto così tante gemme che però devo moltiplicare 15 per 5 E vai Eccolo il nostro GG 1787 gemme Possiamo ingrandire i nostri muscoli Guardate li diventano sempre più grandi Quanto grandi Oh mamma mia Qui posso sollevare almeno 500 kg di roba Ma io voglio sbloccare tipo una cosa Ecco una cosa Eh posso sbloccare le corna Voglio sbloccare invece La corona Capilame Quindi me ne servono mille Ci penso io eh Pronto GG Oggi Andiamo A battere Il gigante colossale Pronti per te Inza via Oh Vai Cresci Cresci ancora di più Ah no Dobbiamo diventare picciate Giusto E vabbè Che sbush Aia 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 ho perso la pancia Non ci ho capito niente Ti giuro Non ho capito quello che è successo No Adesso scomparirò Esatto L'unica cosa che è rimasta di me È la palla Adesso il nostro Pippo Adesso si chiamerà Pippo Va bene Com'è quello di Topolino Il nostro Pippo è diventato Super Mario Metallico E lo facciamo diventare ancora più Chad Vai Ancora più muscoli Un altro po' Ok Sono pronto Guardate quanta larghezza E guardate 300 di altezza Ma tu sei pazzo Va bene Ci sto Pronti partenza Via Allora iniziamo con la larghezza 25 25 Vabbè ma questo è troppo però Questo è troppo Eh Ah no no Non devo perdere Non devo perdere Ok Ah per due Per due No 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 Diviso tre Solo diviso tre Ma che cosa ti è successo alla testa Pippo No Pippo Mi scompari Esatto Mannaggia i cartelli Andare al McDonald's A quanto pare non basta Quindi dobbiamo cercare di essere ancora ancora più mangioni Dobbiamo fare le gare di mangiatori di hot dog Quelle sì che sono delle vere gare da Chad Ho 750 Direi di aumentare ancora di più la nostra potenza E sono pronto Luca metallico Sono pronto Vai Ti devi allargare Oh Pronti Via Devi allargarti Devi allargarti Devi allargarti Guardate ragazzi Guarda Diventerò larghissimo Ancora più largo E vabbè Salta Ancora più largo Oh mamma mia ragazzi Ma sto diventando troppo Enorme Attento 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 Ok Attento 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 Meggio Ma ancora non abbiamo vinto Mannaggia a te Gigante colossale A causa mia il McDonald's ha chiuso E Peppa Pig E non lo mettono più in onda Va bene Sono pronto Sono carico Voglio un like Ora Subito Per diventare ancora più Chad Pronti Partenza Via Vai Ok Ci siamo Questa è una corsa contro il tempo Sono sicuro Che per stavolta Riuscirò a vincere Attenzione alle bombe Aia Aia U Sono Ma sono esploso Aaaaa Nuovo livello Bonus Ragazzi Ultimo livello Ultimissimo livello E Che cos'è questo Posso chiamare anche i miei amici Friends Per andare a tipo Distruggere tutti Va bene Ci sono Corsa con tre amici Chad Vai Ok amico Chad Vieni con me Oh vabbè Grandissimo Vai Altro amico Chad Questa si che è una squadra di Chad Mamma mia Diventiamo ancora più larghi Vai ragazzi Di più Cento Oh Andiamo a distruggerli Vai Si Si No No Il mio amico Ho conquistato il castello Oh Ok ragazzi Questo video di oggi Lo posso anche termine qua Spero tantissimo Che vi sia piaciuto Mettete un mi piace Ora per ricevere un panino a casa E nulla Iscrivetevi al canale Se non l'hai ancora fatto Qua il vostro non esiste tutto E noi ci vediamo Ad un prossimo video E Ciao Ciao